Benvenuti a prevenzione e salute. Questa settimana parleremo delle malattie del rene, parleremo della cura, parleremo di prevenzione, parleremo dello stato delle cose in provincia di Trento. Lo facciamo insieme al direttore dell'unità operativa di nefrologia dell'ospedale Santa Chiara, Giuliano Brunori. Ben trovato. Cominciamo subito allora col parlare dell'incidenza delle malattie del rene in provincia di Trento. Come incidenza di malattie renali nel Trentino, quindi in provincia di Trento, abbiamo la stessa incidenza che c'è a livello italiano e a livello internazionale europeo del mondo occidentale. Abbiamo all'incirca 70 pazienti nuovi che iniziano un trattamento dialitico ogni anno e corrisponde a quei 140-150. I dati sono poi recentissimamente nel mese di febbraio pubblicati e posiziona l'Italia a circa 150 nuovi pazienti per milione. Quindi il Trentino ha la stessa incidenza di malattie renali del resto dell'Italia. Quali sono le cause delle malattie renali? Queste sono l'ipertensione, quindi i pazienti ipertesi che devono curare in maniera perfetta i valori pressori, il diabete che purtroppo è una delle malattie più invalidanti e che fra gli organi che va a colpire c'è il rene, quindi i pazienti diabetici devono curare in maniera proprio attenta a quelli che sono i livelli di glicemia e quindi la malattia diabetica. Abbiamo poi l'età anziana che purtroppo non è curabile perché quella non ci è permesso di fare alcun intervento farmacologico, ma con degli stili di vita corretti prima che uno diventi anziano si possono evitare alcune complicanze e tutte le patologie vascolari che sono poi quelle che si accompagnano molto spesso all'età anziana. Negli stili di vita bisogna sempre ricordare di ridurre molto il consumo di sale perché un eccesso di consumo di sale alimentare determina l'ipertensione, quindi una delle cause di malattia renale, si ricorda sempre di fare attività fisica perché questo permette di evitare il sovrappeso, l'obesità è un'altra delle patologie che può determinare danno, evitare il fumo che anche quello proprio per l'azione della nicotina che è un vaso costrittore determina un ridotto flusso di sangue a rene e può facilitare la comparsa di malattie renali. Sul fronte invece dei trattamenti in caso di malattie renali tra dialisi e tra pianti, facciamo il punto. Noi abbiamo a disposizione per i pazienti nelle fasi iniziali della malattia renale tutta la terapia farmacologica dell'ipertensione, eventualmente il diabete e le diete a basso apporto di proteine, quindi un'alimentazione in cui c'è un minor carico di proteine, quindi il rene tra virgolette. Quando il paziente lavora meno impegnato rispetto a un'alimentazione normale. Quando il paziente, l'evoluzione della malattia, lo porta verso la fase terminale, quindi dover iniziare un trattamento dialitico, noi disponiamo della dialisi extracorporea, fatta tre volte alla settimana in ospedale, circa quattro ore per volta, o la dialisi peritoneale, che è una dialisi che viene fatta a domicilio dal paziente, quindi gestendo lui, soprattutto prevalentemente di notte, quindi mentre il paziente dorme, c'è una macchina che depura il sangue del paziente, quindi non va a incidere su quelle che sono le abitudini di vita del paziente, ma la terapia ideale è il trapianto di rene, perché questo permette di restituire a una vita di assoluta normalità il paziente con malattia renale. Il signor Tiziano Sabaini è uno dei pazienti dell'unità operativa di nefrologia del Santa Chiara di Trento. Lei da quanto tempo è in dialisi? Ho fatto sette anni di peritoneale e un anno e mezzo in emodialisi. Qual è la differenza tra queste due pratiche? La differenza è che la peritoneale te la fai a casa, ti forniscono una macchinetta che dosa l'entrata e l'uscita del liquido di pulizia nel peritoneo e mentre questa filtrano il sangue. Come trova i livelli di assistenza a domicilio e poi anche in ospedale? Per fortuna al momento a domicilio non ho avuto bisogno di nessuno, in ospedale ottimi perché qua gli operatori sono tutti molto bravi. La qualità del servizio è abbastanza alta? Direi che è molto alta. A questo punto parliamo di prevenzione, quali sono i comportamenti corretti da tenere e quali quelli invece da evitare? Il Trentino può vantare un'eccellenza nella sanità italiana perché in questo momento noi abbiamo più pazienti portatori di trapianto di rene rispetto ai pazienti affetti a malattie renali che sono in dialisi. Il 52% della nostra popolazione ha un trapianto contro un 48% che è in dialisi. I dati che possono vedersi sul monitor dimostrano come negli ultimi anni è avvenuto il picco del trapianto. Noi passiamo da 150 pazienti con trapianto di rene nel 2001, ci assistiamo a 177 nel 2005, quindi in 5 anni 27 pazienti in più trapiantati, ma dal 2006 in avanti c'è proprio un'impennata e si passa dai 177 ai 256. Cosa succede? La generosità dei Trentini è sempre stata molto forte per cui non è questo che cambia. Cambia che abbiamo una neurochirurgia a Trento, la rianimazione a Trento, per cui i pazienti con danni cerebrali che prima venivano inviati alle neurochirurgie di Bolzano di Verona rimangono invece a Trento e quindi nel momento in cui il centro di Trento fa un prelievo d'organo, uno di questi reni viene assegnato a un paziente trentino. L'ospedale principale è quello di Trento con un'unità operativa nefrologia che secondo molti raggiunge punte di eccellenza, vero è che però altri presidi ospedalieri si stanno arricchendo di nuovi servizi. L'ultimo caso è quello dell'ospedale di Cles che a primavera si doterà oltre che di nuove sale operatorie anche di un centro per la dialisi. Avremo una nuova sala dialisi, si potenzia il numero di letti a disposizione, si passa dagli attuali 9 a 14. Questa è anche una risposta per il fabbisogno di turisti perché pazienti affetti e malattie renali che vogliono venire a trascorrere un periodo di ferie in Trentino ce ne sono. L'avere a disposizione letti può permettere anche questo tipo di risposta proprio per dare sempre più al paziente dializzato, non solo nostro ma anche quello fuori, una qualità di vita che sia il più vicina possibile alla normalità. Oltre a Cles c'è un grosso impegno da parte dell'azienda e della provincia perché avremo la ristrutturazione della dialisi di Trento e inizieremo proprio nei prossimi giorni per concluderla all'inizio dell'autunno e sono oramai in fase di terminale, chiamiamo così, tutte le procedure per appaltare la nuova dialisi di Rovereto. Quindi il Trentino disporrà di 7 centri di dialisi perché ce n'è uno per ogni ospedale più quello di Trento che saranno tutti assolutamente adeguati, innovati e soprattutto confortevoli per i pazienti che devono trascorrere le ore del trattamento dialitico. Un paziente che fa dialisi passa 156 giornate, anche se spezzettate nelle 4 ore, non giornate intiere, passa per 156 volte e si recchia in un ospedale. Trovare un ambiente confortevole è un ulteriore passo in più per dargli una qualità di vita ideale. Grazie allora Giuliano Brunori, il direttore dell'unità operativa di nefrologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Prevenzione e salute termina qui, ci rivediamo tra 7 giorni. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.